Il microfono Svegliarsi la mattina con i primi raggi del sole Ma sveglia che suona le sette Sentire la mamma che grida dal corridoio Ancati i banni, ora E io a mezzo addormentata che rispondo Ancora cinque minuti Correre come una disperata senza nemmeno avere fatto colazione Per prendere l'autobus Arrivare a ritardo Entrare in classe Essere costretti ad andare in presidenza Studiare, studiare e poi prendere brutti vogli E dopo le lezioni Andare con le amiche a prendere un gelato Guardare con occhi estasiati le vetrine dei negozi del centro E questa è la vita che voglio Voglio una vita così Sono queste le piccole cose che mi rendono felice Che mi rendono felice Grazie a Chantalla E complimenti per la scelta anche di esibirsi in un monologo a microfono Dal vivo e non registrato A volte capita che siano presentate registrazioni con le voci del cartone stesso Altre volte è lo stesso cosplayer che registra Ma in questo caso abbiamo avuto un'esibizione anche live dal punto di vista vocale Grazie a tutti Grazie a tutti